we non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi fort white numero 67 da pochissimi minuti attivo anche questo fort white si utilizza il deltaplano vendicatore questo qua per passare attraverso agli anelli che poi sono sempre dei triangoli nella piattaforma più a sud la piattaforma più a sud è quella vicino a lande letali ragazzi continuiamo a passarci attraverso e come vedete per un pelo abbiamo lisciato ma il fort white ce l'ha dato io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su attenzione che c'è un altro fort white oggi noi ci vediamo fra poco in live ciao grazie a tutti grazie a tutti